Un ciao a tutti voi amici! Oggi, come vi avevo anticipato, è un giorno decisamente speciale. Voglio raccontarvi una mia esperienza decisiva, come ho fatto a trasformare il pensiero negativo in pensiero positivo e non solo. Voglio anche fare chiarezza su cosa è e non è il pensiero positivo, cosa c'entra con i pensieri negativi e voglio darvi due strategie per aumentare il vostro potere di trasformare la negatività in positività. Quando ero più giovane ho vissuto in India per studiare la filosofia indiana, la yurveda, il massaggio ayurvedico, ma ciò che desideravo nel profondo era scoprire a tutti i costi come trasformare il pensiero negativo in pensiero positivo. Mi sono impegnata tantissimo in lunghi esercizi depurativi del pensiero che mi hanno fatto sentire molto positiva nella mia mente, molto cristallina. E che adesso dobbiamo andare tutti in India a meditare? No, perché alla fine anche io quando tornavo a casa mi ritrovavo regolarmente al punto di partenza. Di fronte ai problemi concreti mi tornavano i pensieri negativi. Invece in India avevo solo pensieri positivi, pensavo solo alle mie cose mentali e quindi funziona solo lì. Fatto in quel modo sì, così ho capito che il pensiero positivo non è quello che abbiamo in mente, non è un mantra che ci ripetiamo, penso positivo, penso positivo o un'etichetta che ci appiccichiamo sulla fronte. Ah no? Cos'è allora? Il pensiero positivo è affrontare le situazioni in tempo reale con il giusto modo di pensare. Quando ho colto questo concetto mi sono trovata di fronte a una scelta, un bivio, vivere per sempre in un mondo personale a parte, con i miei pensieri positivi autoindotti, oppure affrontare il mondo così com'è, accettare la sfida di mantenere positivo il pensiero anche in situazioni negative. Uh che storia affascinante! E tu cosa hai fatto? Beh se sono qui oggi a parlare con voi è perché ho scelto di affrontare il mondo tutti i giorni con le sue difficoltà e mantenere la mia mente positiva in ogni situazione. E oggi vi dico che cosa ho imparato in modo che possiate ottenerlo anche voi che mi ascoltate. Ma prima vi chiedo avete chiaro cosa sia il pensiero negativo? Ah è quello che penso tutti i giorni, sono i miei pensieri pieni di preoccupazioni. E quando penso non ce la posso fare e mi blocco ancora prima di affrontare una situazione. E quando giudico male una situazione, una persona e mi faccio condizionare ancora prima di sapere, di vedere come va. Brava, vedo che ci hai pensato, è proprio così. Ma sapete una cosa? Non c'è niente di male in questo. Tutti abbiamo pensieri negativi, è impossibile non averne. Non credete? No, figurati, pensavo di essere l'unica. E infatti, ascoltate bene, ogni giorno la mente genera in media 60.000 pensieri. E credete che tutti possano essere positivi? È impossibile. I pensieri negativi sono fisiologici. È inutile cercare di trasformare i pensieri negativi in positivi. Quando avete un problema serio e vi dicono, dai, pensa positivo, funziona? Dite la verità. Io credo di no. È come cercare di trasformare tutte le persone negative del mondo in persone positive. Ovviamente non è possibile. Ci saranno sempre persone negative e ci saranno sempre pensieri negativi. E allora il segreto qual è? È non frequentarli. Ah, però non va data energia ai pensieri negativi. Non prendeteli sul serio. Lasciateli fluttuare nella mente come lasciate passare le persone negative che non hanno a che fare con voi. Le tenete a distanza, non le coltivate. E lo stesso va fatto con i pensieri negativi. Il pensiero positivo non è creare e proiettare le fantasie che ci piacerebbe realizzare. I sogni realizzabili non sono altro che sfide che richiedono impegno e azione, come spiego in questo video. Se avete ascoltato bene fino ad ora, forse avete notato che da un certo punto in poi non ho più detto pensiero positivo. Ma ho iniziato a dire rendere positivo il pensiero, mantenere positivo il pensiero. Questo per evitare di ripetere uno slogan e portare l'attenzione sul fatto che siamo noi la parte attiva che può rendere positivo il pensiero attraverso il giusto atteggiamento della mente guidata dalla volontà. Se usiamo questa coscienza non subiamo il mondo ma lo trasformiamo, non subiamo i pensieri ma li trasformiamo. Io per fare questo mi sono allenata a restare mentalmente nel momento presente, concentrarmi sulle situazioni e le cose da fare senza aggiungere colore al pensiero. Allo stesso tempo nutro la positività della mente con due pratiche concrete. Sono due strategie per me infallibili che vi stupiranno o forse no, eccole qui. Prima strategia è fare meditazione tutti i giorni. La meditazione è una tecnologia naturale straordinaria per tenere la mente pulita e abituarci ad avere controllo sui pensieri da nutrire e quelli da lasciare transitare senza dargli credito o energia perché non ci piacciono. Resto qui un mio video corso di meditazione quindi restate connessi. Sì tu parli spesso di meditazione io ci credo e anche la scienza ho letto. La seconda strategia è questa ma prima siate positivi. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per vedere tanti altri video su crescita personale e salute naturale iscrivetevi al mio canale con un click e attivate le notifiche e poi fate come me diventate portatori sani di positività. Condividete questo video. La seconda strategia dicevo è usare bene il corpo. Ricordate mensana incorpore sano? Non è un vecchio proverbio, è questo stesso concetto espresso in sintesi dai latini. Se facciamo esercizio fisico anche a casa ma un po' tutti i giorni allenando la forza di volontà avremo più energia per tenere a distanza i pensieri negativi e la mente sarà semplicemente più positiva. Questo mi stupisce un po' ma voglio proprio provare. Per aiutarvi a ricordare che lo sport aiuta ad avere il vero pensiero positivo mettetevi qualcosa di colorato quando fate esercizio e ditevi questo lo indosso per allenare il pensiero positivo. Eccola ce l'ho! Meditazione ed esercizio fisico. Ecco due risorse fantastiche per potenziare il pensiero positivo e affrontare senza negatività le sfide di ogni giorno. Funzionano ve lo garantisco. E da oggi conoscete anche questo vostro potere speciale, quello di lasciare andare i pensieri negativi in qualsiasi momento. La prossima volta che vi viene un pensiero negativo ricordatevi di questo video e fate così lanciate una moneta in aria e ricordatevi che potete sempre girarla dalla parte che volete voi, la parte positiva. E se vi chiedono perché lo fate ma fateli vedere questo video. Bene per oggi vi saluto, vi mando un pensiero positivo e aspetto di leggere i vostri pensieri positivi nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao!